Ciao a tutti, sono Jessica Costanzo, ho 30 anni e vivo a Castiglione Torinese, una in cui sono attivista del Movimento 5 Stelle. Mi sono laureata presso la Facoltà di Scienze Politiche, dove ho discusso la tesi relativa al successo dei distretti industriali piemontesi e la tutela del Made in Italy nell'era della globalizzazione. Successivamente ho conseguito la laurea specialistica, sempre presso la stessa facoltà, sulla decrescita felice, come alternativa alla logica economica. Da circa 7 anni lavoro nel campo della formazione professionale, dove mi occupo della gestione di percorsi formativi, volti sia alla ricollocazione di persone disoccupate nel mercato del lavoro e sia al potenziamento delle competenze delle persone occupate. Dalla scorso autunno sono stata scelta tra i partecipanti per la collaborazione nello staff del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Piemonte, dove ho svolto attività di sopporto per il consigliere Davide Bono relativamente alle materie della terza commissione, per cui ho avuto modo di analizzare più da vicino le politiche attive sul lavoro, il piano straordinario sull'occupazione, il piano giovani, la legge 34-2008, i fondi strutturali europei e così via. Sono poi entrata a contatto con le crisi aziendali piemontesi, alcune delle quali che perversano appunto sul territorio, e lì ho avuto modo di individuare i punti critici e soprattutto le ripercussioni fondamentali che talvolta la mancanza di politiche attive o l'inadeguatezza di queste comportano direttamente sulla pelle dei lavoratori, delle piccole e medie imprese e del tessuto produttivo piemontese. Di recente poi ho iniziato a prendere parte anche agli incontri sul gruppo di lavoro coordinato da Gianni Trombetta e partecipo quindi alla redazione del programma regionale lavoro con l'aiuto di tutti gli attivisti. Ho scelto quindi di candidarmi alle regionarie proprio per portare il mio supporto al movimento e sarò sicuramente disponibile negli ambiti sia locali e comunali e sia qualora gli attivisti lo ritengano opportuno, ritengano le mie conoscenze all'altezza anche in ambito regionale.